Ciao a tutti ragazzi, bentornati all'interno di un mio nuovo video. Dai che la settimana è appena iniziata, c'è ancora un pochino d'attesa, però oggi c'è una buona notizia, perché Juventus torna ad allenarsi con tutti i nazionali che non sono andati al Mondiale, con tutti i nazionali che sono già stati eliminati dal Mondiale. Quindi iniziamo a respirare un pochettino l'aria del ritorno in campo, dato che tra un mese giochiamo con la Cremonese, adesso c'è una sorta di preparazione, una sorta di nuovo ritiro, un po' come accade di solito in estate, inizieranno ad esserci anche alcuni amichevoli, Arsenal, Barcellona, si è parlato di queste squadre. Quindi dai, inizia a tornare la Juventus anche lato campo, devo dire la verità, io non vedo l'ora, perché benissimo i mondiali, anzi mi stanno divertendo un sacco nella fase di eliminazione diretta, benissimo il discorso di parlare comunque di Juve, però il calcio giocato lato Juve, lato cuore, quello è una cosa difficilmente sostituibile. Quindi dai, e tra l'altro oggi è una settimana che mi sto facendo di quarantena, esattamente lato Covid, ne sto approfittando per fare un po' di shopping, mi sono comprato un iPad, dato che l'altro l'avevo perso a Roma, mentre tornovo da Roma, e sto un attimino ragionando al prossimo viaggio che farò magari verso Milano, perché c'è un nuovo progettino che sta iniziando, ve ne parleremo proprio in gennaio, abbiamo già fatto qualcosina lato questo progettino, mi sto già immaginando queste nuove trasferte, mentre con l'iPad magari mi ascolto qualcosa, tramite queste cuffie, che se volete acquistare, cuffie ufficiali Juventus, vi lascio il link qui sotto, in descrizione c'è anche un codice sconto, con cui potete risparmiare anche qualche eurino, quindi se fate avanti e indietro in treno, o in palestra vi servono, cuffie Juventus Bluetooth per tutti i dispositivi, ve le lascio qui sotto in descrizione. Allora, oggi vorrei affrontare diversi argomenti, come al solito, ad oggi facciamo un po' fatica a parlare di calcio giocattolato Juve, dobbiamo per forza le cose parlare di quello che sta uscendo in questi giorni, e chi mi segue su Twitter probabilmente alcune cose le avrà già lette, se non tutte, però voglio cercare di andare un po' nel dettaglio, e vorrei partire intanto da una sorta di battaglia, di crociata, che sto portando avanti, perché mi va il sangue al cervello, mi va il sangue al cervello, io sto prendendo il patentino da giornalista, sto cercando di diventare giornalista, voglio dare una svolta anche professionale a tutto quello che stiamo facendo da anni, quasi dieci anni qui sul web, e mi viene il nervoso, mi viene veramente il nervoso, a leggere di persone che del giornalismo fanno la loro professione, scrivere robe del genere. Gli inquirenti ritengono che i rapporti con gli altri club abbiano posto in pericolo la lealtà della competizione sportiva, e poi i passi ossessionati eravamo noi, hashtag Radiate la Juve. Tanto hashtag Radiate la Juve è una cosa molto pesante da scrivere, e spero che possano esserci ripercussioni pesanti, perché qua sembra che sul web ognuno possa fare quello che vuole, attenzione, attenzione, dosare bene sempre le parole anche sul web. E allora, dato che un giornalista giustamente non capisce la differenza dei tempi verbali, o comunque l'utilizzo del verbo corretto, ritenere e provare sono due cose differenti. Ritenere è un'opinione personale su qualcuno o qualcosa, quindi gli inquirenti ritengono che. Provare è un'altra cosa, costituire la prova di qualcosa, dimostrare. Non è che se gli inquirenti ritengono, allora questa è la realtà. Anche perché la cosa divertente è che non c'è un modo di dimostrarla, questa cosa qui. E di cosa stiamo parlando? Adesso ci arriviamo, però volevo partire proprio da questa cosa qua, perché non è il primo giornalista a cui rispondo, usando anche dei toni un po' scortesi, sgarbati, forse a maleducati, però certe cose vanno sempre combattute, perché ribadisco, non siamo qui a dire che la Juventus sia innocente, quello che volete, siamo qui a combattere questi personaggi, che vogliono, non lo so, non lo so far passare quale tipo di messaggi. Perché oggi cosa esce su Gazzetta? Chi faceva affari con la signora, le nuove intercettazioni, anche Atalanta, Sassuola, Udinese, nella galassia della Juve di Agnelli. Tra l'altro oggi compleanno di Agnelli, quindi tanti auguri. E io dico, faccio un ragionamento, in Italia lo diamo giustamente, il sistema Bayern Monaco, io non so quante volte siamo stati qui a dire, il Bayern Monaco è il modello da seguire, il calcio tedesco è il modello da seguire, il Bayern Monaco in Bundesliga, cosa fa? Basa tutto il sistema su trattative interne, che fanno rimanere all'interno della Bundesliga determinati giocatori, e quindi aumentano anche gli introiti dal punto di vista, se vogliamo, dei diritti televisivi. Che oggi è un po' quello che fa rimanere sulla baracca in Serie A, il fatto che ci siano determinati giocatori nelle big italiane, che quindi i diritti televisivi vengono spartiti anche con squadre che difficilmente riuscirebbero a campare con dei diritti televisivi scarsi, perché in Italia siamo veramente vergognosi dal lato dei diritti televisivi, ma io sfido anche a togliere quel poco che arriva a queste squadre che diversamente non riuscirebbero a campare ed effettivamente scriversi ai campionati. Se però la Juve fa degli affari, e spesso e volentieri, e suon di milioni con altre squadre, questo non va bene. Perché cosa significa che, come diceva questo signore, questo signore molto professionale, venga allesa la lealtà della competizione sportiva? Perché Juventus faceva affare con queste squadre? Perché scritta così, sembra quasi, come dicevo prima, che Juventus abbia sempre solo ceduto i giocatori a valutazioni elevate, dato che in questi giorni sta tornando fuori. Eh, ma la Juve ha ceduto sto raro a 20 milioni. Basta. Cioè, non mettiamo nel calderone, no, anzi, non lo mettiamo nel calderone il discorso Romero, perché gliel'abbia ammesso che è stato uno dei peggiori affari della storia della Juventus a livello economico. Perché Juventus su Romero ha fatto minus valenza di 5 milioni. E citare Romero è solo perché, per Cassi, presidente dell'Atalanta in un'intercettazione, avrebbe detto che, con Romero avrebbe fatto falso al bilancio, sembra che la colpa sia della Juventus. Cioè, se il falso bilancio l'ha fatto per Cassi dell'Atalanta, l'ha fatto per Cassi dell'Atalanta, mica la Juventus. Come adesso sta circolando la voce relativa all'intercettazione paratici, in cui dice, con Luca è, ma lasciate fare a me, ci penso io a sistemare queste cose. Sì, ma è un'intercettazione paratici al Tottenham. Cioè, non è un'intercettazione lato Juve. Perché queste cose vengano fatte passare come prove decisive nei confronti della Juventus? Quando non si parla di Juventus, si parla di Paratici, che ha il Tottenham, e si parla di per Cassi, che ha il presidente dell'Atalanta. Perché qua sembra sempre che noi vendiamo a cifre elevatissime e in cambio compriamo un tozzo di pane. Non è stato così. Perché vi erano sempre stati scambi veri e propri di giocatori, pompati, ipervalutati, lo diciamo da oggi, su questo canale lo diciamo da un pezzo, che queste cose un giorno poi magari sarebbero tornate fuori. Ma non c'è ad oggi un regolamento perché non si riesce a valutare il valore di un giocatore con criteri oggettivi. È sempre solo roba soggettiva. Ritenere, avere un'opinione personale, personale uguale soggettiva. Non c'è un modo di valutare la corretta valutazione di un calciatore in sede di mercato. Non esiste. Non esiste. E dico quasi sempre perché spesso e volentieri in realtà acquistavamo e basta dei giocatori dalle altre squadre a dei prezzi elevati. Perché Blauvi c'ha la Fiorentina a 70 milioni. No? Perché Chiesa la Fiorentina a 60 milioni, Bernardeschi la Fiorentina a 40 milioni. La Fiorentina non era all'interno di questo racket della Juventus di Agnelli. No. Perché? Ah, perché abbiamo sempre solo speso nei loro confronti. Locatelli 40 milioni al Sassuolo. Questo c'è però. Perché? Perché magari ci sono stati degli affari che interessavano in uscita anche la Juventus. È fantastico tutto ciò. E badate bene, ancora non sto dicendo la Juventus è innocente. Vi sto dicendo che in questo momento, lato media, c'è un vero e proprio accanimento che vuol far passare un evento scolpevole anche per cose nei quali veramente non c'è niente da discutere. Addirittura oggi è venuta fuori questa carta. Ve la leggo perché Marco, avvocato Marco Tanta su Twitter, non l'idea di che sia, dice non possono fare altro che radiarli. Hashtag radiate la Juve. Come prima, io spero che qui ci possano essere delle ripercussioni pesanti, perché sono cose pesanti da dire di un certo peso, occupano un certo spazio. Bergamo, 30 dicembre 2019. Io ho sottoscritto Luca Percassi, in qualità di amministratore delegato dell'Atalanta Bergamasca Calcio SPA Atalanta, con riferimento al trasferimento definitivo del calciatore Dejan Kulusevski, nato in Svesti il 25 aprile 2000, alla Juventus FC SPA. Juventus mi impegno ad acquistare a titolo definitivo un calciatore della Juventus suggerito dalla stessa per un valore di euro 3 milioni, più IVA entrano oltre il 30.06.2020. In fede Luca Percassi più la firma. Allora, questa, a quanto pare, è una nota privata tra Juventus e Atalanta. Io dico a quanto pare perché mi fa un po' ridere, non mi sto dicendo che sia vero o che sia falsa, questo lo stabilirà la giustizia, lo stabilirà un tribunale, però questa è una nota privata in cui, scusate, non ce la faccio a venire serio, faccio un po' fatica, lo ammetto, lo ammetto, in cui si fa questo discorso relativo a 3 milioni di euro lato Juve, e poi si dicono che la Juve non sarebbe stata in grado di scorrersi al campionato, stiamo parlando di 3 milioni di euro, con il calciatore Daniel Kluzeski nato in Svezia, con la firma così, senza la controparte firmata dalla Juventus, cioè questa cosa cosa dimostra, perché il punto è non si possono avere delle scritture private, non si possono fare scritture private perché poi potresti non contabilizzarle a bilancio, ma questa cosa cosa prova? Cioè non poteva essere una scrittura finta, come facciamo a sapere che la scritta davvero per Cassi, la scritta davvero per Cassi per avere un modo privato di scrittura con la Juventus, non è controfirmata da nessuno della Juventus, cioè questa potrebbero averla scritta stamattina e basta, perché potrei averla scritta io, potrei averla fatta io e firmata io, e messo con un semplice software di pdf la firma lì, cioè questa cosa non possiamo fare altro che radiarli giustamente, la Juve, firmato da Atalanta, eventualmente presidente dell'Atalanta, amministratore legato dell'Atalanta, radiamo la Juve, in una trattativa che ha portato Kulusevski alla Juventus per oltre 40 milioni di euro, doveva essere tipo 44 milioni di euro, per un giocatore che aveva fatto sei mesi in Serie A, e io mi ricordo, perché me lo ricordo come se fosse ieri, gli articoli che uscivano sui giornali quando cediamo Kulusevski e Bentancur al Tottenham di Paratice Conte, lavorano ancora per la Juve, fanno un favore alla Juve, perché si riteneva eccessivo la cifra pagata dal Tottenham per Kulusevski, che era praticamente la stessa che aveva pagato la Juventus per Kulusevski. Però, quando lo prende la Juve non si dice che è troppo. No, non si dice. Si dice tutt'altra roba. Quando invece lo si cede alla stessa cifra, allora, vedi, stanno aiutando la Juve. Quando poi questo è iniziato a far bene in Premier League, gli articoli non sono stati più si aiuta la Juve. Sono stati. Hai visto la Juve che ha l'occhi? Che tocchi? Che perdenti? Che matti? Che hanno regalato quei giocatori a quelle cifre? È il giochino delle parti, ragazzi. È il giochino delle parti. È il giochino delle parti. Ma come vi sto continuando a dire? Che io sto cercando di prendere il patentino alla giornalista. Io, dentro questa merda, non ci voglio sguassare. Non ci voglio sguassare. Quindi ve le dico queste cose. Non me ne frega niente. Risulterò antipatico. Risulterò di parte. Non me ne frega niente. Queste robe mi fanno vomitare. E dato che ho la possibilità di denunciarle queste cose, lo faccio e continuerò a farlo. Perché non si parla di difendere la Juventus. Si parla di mettere in croce delle persone che fanno il loro lavoro in maniera terrificante. Terrificante. E vanno veramente a danneggiare. Un gioco che dovrebbe essere bello. Perché qua si dice che la Juventus che danneggia la Serie A e danneggia il calcio. Questo invece è il modo di non danneggiare il calcio. Queste cose qui invece vanno bene. D'accordo. Concludo con questo articolo che mi sembra interessante, ma non l'ho trovato da nessuna parte online. Nemmeno sul sito del Sole24ore stesso, che l'ha messo in prima pagina. Quindi ho fatto un thread dove ho incollato quel poco che ho trovato online sull'argomento. E cioè, questa è la prima pagina del Sole24ore di oggi. Super condono per salvare il calcio. E poi c'è un trafiletto in cui ci raccontano un po' quello che è accaduto. Sul sito del Sole non c'era, quindi sono andato a cercare un po' in internet. E vi dico, super condono per salvare il calcio. Scudo penale e sportivo. Pronto l'emendamento. In un emendamento bipartisan, la sospensione del regime sanzionatorio misura inserita nel decreto aiuti quarter. Io non ho idea di quarter, non ho idea di cosa vogliono dire queste cose. Andiamo un po' più nel dettaglio. Scoppio è il caso Renzi. uno scandalo. Scoppio è il caso virgola. Renzi, uno scandalo. Il governo sta pensando a una manovra ad hoc per salvare il calcio professionistico. Dopo lo scandalo che ha travolto la Juventus con l'intero CDA presidente Andrea Agnelli in testa costretto le emissioni, a tremare adesso sono anche altri club di Serie A. L'esecutivo, si legge sul Sole24ore, sta valutando una misura straordinaria per salvare le società. Un super condono mascherato da correttivo. Il che significa che, come prevedibile, tante squadre in questo momento stanno facendo fatica a pagare gli stipendi. Tante squadre stanno facendo fatica. E tante squadre potrebbero, come è stato, negli anni scorsi, dalla pandemia in poi, chiedere ai giocatori uno sforzo per spostare gli stipendi, ridurre gli stipendi, rinunciare a degli stipendi, o chiedere appunto un aiuto al governo che sta cercando di ragionare sotto questo punto di vista perché il 22 dicembre dovrebbero pagare gli stipendi con crediti IRPEF e quant'altro. Comunque, andiamo avanti. Si tratta di un emendamento bipartisan al decreto aiuti quater, che non ho idea di cosa sia, che prevede la rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con il versamento delle prime tererate entro il 22 dicembre. I dirigenti del club, dei club, prosegue il sole, potrebbero avere più tempo a disposizione per effettuare versamenti fiscali e contributivi sospesi per far fronte all'emergenza sanitaria a gennaio-novembre 2022. L'ammontare tra ritenute IRPEF, contributi e IVA si aggira sugli 800 milioni di euro. Questo è un po' quello che si dice. In massima parte, questi debiti progressivi riguardano il massimo campionato, la Serie A. Proteste sull'emendamento sono arrivate dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che dice, dare dei soldi alle società professionistiche di calcio dopo tutte le schifezze che hanno fatto sarebbe una vergogna, fonte affari italiani. Vabbè, lasciando stare l'ultima parte in cui mi fa ridere che un politico possa dire che ci sono persone che fanno le schifezze e quindi non meritano i soldi. Fa molto ridere. Mi viene a dire che non sono solo le squadre in Serie A in questo momento avere dei problemi sui pagamenti, sul discorso IVA, sul discorso contributi. Non sono solo le squadre di calcio. Ad ogni modo, ma questi sono tutti altri, ovviamente, tutti altri discorsi che non riguardano quello che vogliamo trattare su questo canale, ad ogni modo significa che il calcio in questo momento sta attraversando un periodo abbastanza difficile. Un periodo abbastanza difficile. Quindi, anche questo discorso delle note private che si stanno cercando, io non ho idea se queste note private siano vere, siano false, siano una cosa che si fa spesso all'interno del calcio, non lo so, perché magari andando a cercare all'interno di tutti i faldoni di tutte le squadre di Serie A queste note private potrebbero unire fuori come funghi. Ribadisco, io spero che nel caso quella possa essere finta, perché se quella è davvero una scrittura privata tra due squadre di Serie A, ragazzi, mi cade un po' tutto, cioè, veramente mi cade un po' tutto, mi fa un po' sorridere che quella possa essere effettivamente una nota privata da portare a processo, una considerata prova, cioè, non è nemmeno controfirmata, torno a ribadire, quindi, non riesco a capire che valenza possa avere, però, io sono molto ignorante sull'argomento, quindi, quello che vedo vi riporto e ci facciamo una chiacchierata come se fossimo amici al bar, cercando comunque di mantenere un certo livello nelle discussioni ad ogni modo. E quindi, niente, questo è, sono veramente curioso di capire cosa salterà fuori da tutto sto discorso, perché in questo momento Juventus, ripeto per, cos'è, la quinta volta di notare questo video, non sto dicendo che sia innocente, ma sembra un po' descritta come l'orco che mangia i bambini, no? Invece, le altre 19 in Serie A sembrano le squadre perfette, linde, pulite. Quando io ricordo, ma ricordo, ne ho tantissimi di ricordi, se volete un giorno parleremo anche un po' più nel dettaglio di questa roba, ma parlare degli altri fa sempre un po' schifo, ma ricordo tantissimi affari tra altre squadre, altre big, con altre squadre più piccole o cosiddette più piccole rispetto a queste in cui venivano scambiati i calciatori, venivano valutati i giovani che non avevano mai giocato in Serie A più del loro prezzo per arrivare a pagare meno altri calciatori. Anzi, voglio farvi un esempio, l'Inter che vince il triplete, l'Inter che vince il triplete, che per Milito Tiago Motta cosa fa? Bonucci acqua fresca per scalare, per scalare il prezzo. Ma adesso il tifoso dell'Inter giustamente potrà venirmi a dire ma che cosa vuoi da me? Ma non ho fatto niente di illegale. Ma infatti questo è il punto. Infatti questo è il punto. È come se adesso venissero a dirmi che l'Inter ha alterato il campionato o la Champions, dato che ha vinto anche la Champions in quell'anno, perché ha condotto delle operazioni di mercato con il Genoa ha andato ad alterare la legalità del campionato perché ha fatto quelle operazioni di mercato con il Genoa, è andato ad alterare la Champions perché ha fatto quelle operazioni con il Genoa. Ma stiamo scherzando, stiamo dicendo davvero, perché questa è l'accusa di oggi e ci sono dei giornalisti che su sta roba fanno i tweet e mettono l'hashtag aggradiate la Juve ma ci rendiamo conto del livello a cui siamo arrivati? Io queste cose non le faccio passare, non me ne frega niente, io queste cose non le faccio passare. Poi se Juventus risulterà colpevole pagherà, se Juventus andrà in Serie B, in Serie C, 20 punti di penalizzazione Agnelli, Nedved, Cherubini, paratici in galera, questo lo vedremo poi, ma io, questo processo preventivo e questa macchina del fango sulla Juventus da parte di persone che col giornalismo dovrebbero veramente ringraziare perché porta il pane in tavola, no, io queste robe non le faccio passare, mi dispiace, mi dispiace, io queste robe non le posso digerire.